Da ieri con il semestre bianco che rappresenta uno spartiacque politico, la regione è costretta a rimanere ferma non potendo più leggiferare su alcune materie, prevalentemente quelle elettorali. Questo significa che i sindaci di centri con più di 5.000 residenti che aspirano a candidarsi per le regionali di marzo 2024 dovranno dimettersi dalla carica 120 giorni prima del voto, costringendo i propri comuni a un lungo periodo di commissariamento prefettizio. E proprio per cambiare questa cosa era stata presentata una proposta di modifica della legge elettorale, fortemente voluta dal lancio Abruzzo che avrebbe permesso anche ai primi cittadini di centri over 5.000 abitanti di dimettersi a verdetto delle urne acquisito. Ma l'occasione è sfumata la mezzanotte di ieri insieme alla proposta di legge, una situazione che ha suscitato non pochi malumori, in particolare da parte del presidente del lancio Abruzzo, nonché sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che parla di occasione persa. Ancora una volta i sindaci saranno penalizzati, intanto perché non è stata rimossa la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale o di presidente della giunta regionale, ma anche perché è rimasto, ed era la nostra seconda richiesta, un termine inaccettabilmente lungo e oltre che incerto, quindi ragionevole e illegittimo come termine, come norma prevista dalla legge regionale, che di fatto non mette neppure i sindaci in condizione di sapere quando devono rimuovere la causa di ineleggibilità. E' quindi stata una scelta politica chiara di non voler accogliere le richieste, una richiesta che io ho portato in rappresentanza del direttivo del lancio Abruzzo, ne prendiamo atto, ma ancora una volta il consiglio regionale chiude la porta in faccia ai sindaci. Una voce peraltro trasversale, visto che i primi cittadini che aspirano ad una candidatura in regione sono di centro-sinistra e centro-destra. Un esempio per tutti è quello di Ivan Costantini, sindaco leghista di Giulianova, che se vorrà ancora candidarsi per i piani alti della politica regionale, dovrà dimettersi quattro mesi prima del voto, a novembre costringendo la sua città al commissariamento senza alcuna certezza di essere eletto in regione. Evitare delle dimissioni per la rimozione delle cause di ineleggibilità, come avviene in tante regioni, da ultimo il Molise, dove hanno concorso la carica di presidente della giunta regionale due sindaci, o comunque obbligare ad una dimissione molto anticipata rispetto al termine delle elezioni, oltre che incerta, come dicevo prima, rischia anche di penalizzare i territori e le comunità. Ma evidentemente c'è stata questa volontà.